La buona giornata, un saluto a tutti i sostentatori, sostentatrici, dicevo che mi è venuta la voglia di acquistare questo prodotto dal prezzo modico 51,90 su Amazon, istruzione naturalmente in inglese, confezione del pezzo dentro, quella lì è la sua confezione esterna, questa è quella se lo mandano giù con tanto di stracettino per pulire, è simpatico, una cosa che ho gradito tanto è stato quello di mandarti anche il raggeggino per diciamo calare le maglie, questo è il movimento meccanico, scusate, come vedete è fatto bene, sotto c'è, vedete il movimento della mezzaluna, chiamiamolo così di carica, è fatto bene anche a livello di acciaio, l'apertura è naturalmente qui, come vedete, come si vede dalla lancetta è praticamente non è al quarzo, ma è meccanico, infatti si vedono i bilancieri, come si chiamano dentro, insomma che fanno vedere il funzionamento, è carino, con funzione elegante, ti danno sicuramente la loro schedina, dopo ci sarà il nome, il cognome e quant'altro, insomma, insomma dai, diciamo che per 50, 51 euro si può prendere, qui è, credo sia, ah è vetro, è vetro, è vetro, questo è vetro, dai, no, una cosa abbastanza, adesso metterò appunto la data, ma non mi fai niente, vediamo un po' quanto dura, se funziona, perché io dopo col problema del meccanico posso avere, posso, credo mi andassero tutti indietro l'orologio, questo è continuamente carica, perciò, bene, saluto a tutti e questa è una delle mie tante idee notturne, ciao a tutti, buona giornata.